Tartaruga Ninja della IDW numero 8, le origini segrete di Splinter. Kawabanga o Buia Casha e bentornati su No Mamamazzo, continuiamo dopo la pausa natalizia a parlare di Tartaruga Ninja della serie della IDW che conta ad oggi 51 numeri e che è iniziata qua in Italia nel 2013, in America nel 2011, edita appunto dall'IDW e qua in Italia da Panini Comics. Come forse saprete vorrei parlare un po' con voi di tutti i numeri che ci sono stati finora in attesa della pubblicazione regolare bimestrale dell'uscita che potete trovare adesso non più in edicola ma in fumetteria e nelle librerie dedicate. Prima di cominciare se ancora non lo avete fatto vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che amano le Tartaruga Ninja, di commentare qui sotto con qual è la vostra Tartaruga Ninja preferita e vi ricordo anche che qua sotto in descrizione, aprite sempre la descrizione, trovate i miei link agli altri miei social. Devo dire che quando ho letto questo titolo Le origini segrete di Splinter non capivo cosa potessero dirci di più che non avevamo già visto negli altri numeri. Abbiamo già visto che in questa nuova incarnazione delle tartarughe ninja Splinter è un ratto e non è un ex essere umano come nel cartone animato ma è un ratto esattamente come nel fumetto originale come nel film del 1990 però è anche la reincarnazione di Amato Yoshi che è un essere umano, un ninja non dai nostri tempi ma del Giappone feudale quindi ci sono due origini, l'origine scientifica e l'origine mistica, l'origine soprannaturale e non pensavo cosa ci potessero far vedere di più di questa cosa, in realtà ci hanno mostrato la gioventù di Splinter. Il numero si apre esattamente con il cliffhanger in cui ci eravamo lasciati nel numero 7 ovvero Splinter che è stato catturato niente po' po' di meno che dal clan del piede con un re di vivo Oroku Saki di cui non sappiamo ancora per quale motivo sia vivo dato che anche Oroku Saki è un ninja del Giappone feudale con una Oroku Karai che nella storia originale è la figlia di Oroku Saki, personaggio che non abbiamo mai visto né nel film del 90 né nei cartoni dell'87 l'abbiamo recuperata con le altre serie, lo chiama nonno quindi non sappiamo bene qual è il loro rapporto ma di sicuro ci sono un po' di gradi di parentela in più rispetto al normale rapporto padre figlia. In questa battaglia contro tutto il clan del piede, contro Karai, contro Alopex la volpe mutante che è al servizio del clan del piede, Splinter ripercorre un po' tutta la sua vita e ci dà un insegnamento molto importante su quanto di lui ci sia anche nei suoi figli e quanto lui stesso fatichi a controllare la rabbia così come nel film del 1990 cercava di insegnare a Raffaello come controllare la rabbia che se non è opportunamente controllata è un nemico invisibile anche qua ci mostrano come nella gioventù di Splinter di Amato Yoshi il suo maestro gli insegni come la rabbia che hai dentro di te è come un fuoco ma il fuoco deve essere controllato perché sia produttivo altrimenti se lo lasci divampare il fuoco non si preoccupa di quello che distrugge distrugge qualunque cosa si trova davanti e può distruggere anche te questa è una fantastica metafora sulla rabbia sull'ira e credetemi io che ho un carattere molto che avevo un carattere molto simile a quello di Raffaello ne so qualcosa questo numero introspettivo come pochi ci mostra anche il primo incontro tra Amato Yoshi e Tang la nascita della loro storia d'amore di come il loro amore sia puro e abbia sia riuscito a quietare un pochino l'animo irrequieto di Amato Yoshi questo fino all'arrivo di un altro componente del clan del piede un altro componente più giovane più arrogante che riesce a un potere insolito quello di riuscire a far scatenare di nuovo la rabbia di Amato Yoshi ogni volta che apre bocca quest'altra persona è appunto Roku Saki che poi scalerà la vetta del clan del piede farà carriera diventerà il John Nin il capo nuovo del nuovo clan del piede portando disonore al clan stesso facendo in modo che Amato Yoshi rinneghi il suo clan e che per questo venga poi inseguito appunto da Roku Saki e ucciso insieme alla sua famiglia questo lo avevamo già visto quindi questa piccola parte viene ridimensionata rispetto alle sue origini ma tutta la parte che amplia un pochino lo spirito del maestro Splinter è davvero interessante perché non limitano il personaggio di Splinter a un maestro anziano che ha insegnato le arti marziali e le tartarughe e se ne sta sulla poltrona a non fare niente o un deus ex machina che viene fuori solo quando si risolve qua esploriamo effettivamente il suo carattere e come ogni aspetto del suo carattere è stato trasmesso ai propri figli del suo carattere ma anche del carattere di Tang Shen come vede lui lui mostra lui ricorda come Tang Shen abbia la stessa passione che ha Raffaello quindi questa questo impeto vivo che spesso appunto si tramuta anche in scatti di ira che ha Raffaello questa voglia di preoccuparsi per gli altri che ha Leonardo la curiosità che caratterizza Donatello o la semplice gioia di vivere che ha Michelangelo tutti questi aspetti erano propri della madre di questi quattro figlioli ma sono anche propri del maestro Splinter come vedremo anche nei prossimi numeri qua in realtà mostrano il suo lato rabbioso il suo lato Raffaello ma più avanti mostreranno anche che il maestro Splinter racchiude anche un po' tutti gli altri tre caratteri principali delle tartarughe ninja questa è la prima delle due parti di questo fumetto ma nella seconda parte si continua subito in pompa magna con questo combattimento tra Splinter e il clan del piede nel frattempo però ci mostrano anche cosa stanno facendo le tartarughe ninja le tartarughe ninja sono al negozio delle seconde occasioni il negozio dei genitori di April O'Neil con Casey Jones anzi Casey Jones è prima con di April e poi arriva al negozio e fanno il primo incontro con Angel un altro personaggio amica di Casey Jones un altro personaggio che non c'era né nel film del 1990 né nella serie a cartoni animati dell'87 ma è comunque un personaggio se non sbaglio comunque della serie originale che è apparso per la prima volta nella serie del 2002 personaggio molto interessante che non è puramente un incontro casuale ma si rivela molto utile per il combattere il clan del piede Angel conferma alle tartarughe ninja che stanno girando brutti ceffi altri mutanti altri ninja nel suo territorio e gli conferma conferma le tartarughe che sono il clan del piede questa conferma fa in un certo senso scusare Donatello che nei numeri precedenti non credeva al fatto che a Leonardo che credeva che appunto questi ninja erano del clan del piede solo perché Splinter ne aveva riconosciuto lo stile aveva una sensazione Donatello ha bisogno di prove Donatello è lo scienziato e qua si scusa con Leonardo che però risponde Donatello avevi ragione nell'esprimere le tue obiezioni perché tu non avevi prove non ti devi scusare questo riappacificamente riappacificamento tra i due fratelli è uno delle cose è una delle cose più belle in questa serie una delle cose trattate meglio in questa serie soprattutto all'inizio Angel fornisce anche alle tartarughe ninja un'informazione sul luogo dove si trovano dove si radunano i membri del clan del piede quindi va da sé che nel prossimo numero ci saranno le tartarughe che daranno manforte al maestro Splinter che saranno da rinforzo e combatteranno contro Shredder questo ovviamente succederà questo ma questo è il numero 9 che si intitolerà battaglia per la vita e ne parleremo settimana prossima io intanto come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e come sempre con l'inchino con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti